terminato questo nono gran premio un gran premio che il festival è un po degli errori errori fatti ieri dalla ferrari quando non hanno segnalato a fetter l'arrivo di science forse anche troppo severa la punizione che i commissari sportivi hanno tenuto nei confronti del pilota tedesco però hanno cercato di non creare un precedente e di creare e di dare una punizione severa errori oggi da parte della merced sia strategicamente perché non hanno fermato emilton nel momento cruciale quando c'era la safety car quindi sbagliando le tempistiche e favorendo la concorrenza sia pur che purtroppo oggi sono caduti in errori di affidabilità un'affidabilità soprattutto sul cambio che già altre volte si era ripetuto nelle stelle d'argento quindi arriviamo stiamo arrivando al giro di buona di questo campionato molto intenso con gli ultimi tre gran premi che alternativamente i leader fettel e emitter si sono superati di un punto un risultato oggi importante per la ferrari perché ha portato dei punti importanti per metterli in corso per il campionato costruttori quindi abbiamo ancora una volta un Verstappen che insieme alla Red Bull farà da arbitro a questo campionato e ci avviamo verso una settimana corta come quella che ci porta al Gran Premio di Silverstone in un mese che ancora una volta vedrà il mondo della Formula 1 impegnato in altri due Gran Premi quindi un mese decisivo per incominciare a vedere come si svolgerà e come terminerà questo il nostro campionato il nostro campionato